Il giorno e la storia Oggi è il 26 novembre 1980 Nella zona colpita dal terremoto Sandro Pertini attacca la burocrazia 1970 Papa Paolo VI parte per un lungo via Il viaggio in Asia e Oceania 1998 Tony Blair parla al Parlamento Irlandese Commenta il fatto del giorno Mario Calabresi Direttore della Repubblica Oggi ho scelto di ricordare l'ultimo volo dei Concorde Prima della vittoria dei voli loco